il 10 giugno riparte veline chi sarà a condurlo è lui o non è lui è lui o non è lui certo che è lui signore e signori eccezionalmente conduce il grande Ezio Greggio la prossima velina potresti essere tu anch'io speriamo di no veline un programma di Antonio Ricci dal 10 giugno su canale 5